Si dice che a Natale si diventa un po' più buoni, almeno per qualche giorno. E allora anche la dirigenza del Lecce risparmia al mister Franco Lerda l'amarezza di un esonero ufficializzato alla vigilia di Natale. Secondo i soliti ben informati, neanche oggi Savino e Antonio Tesoro, rispettivamente presidente e direttore sportivo del Lecce, comunicheranno il ben servito all'allenatore che ancora una volta non sta riuscendo a portare i giallorossi in Serie B. Ma è sollievo di poco conto perché ormai nell'area l'avvicendamento sulla panchina dei Salentini, sulla quale, se Babbo Natale non porterà Alessandro Calori, si siederà, stando alle voci più insistenti, Davide Dionigi, quarantenne ex attaccante che ha allenato il Taranto, la Regina e la Cremonese, squadra questa che ha guidato da marzo scorso fino ai play-off. Poi, non avendo centrato l'obiettivo della promozione in Serie B, è stato esonerato. Le decisioni della dirigenza giallorossa però saranno rese note dopo il 26 dicembre.